cara roma io ho solo una domanda ma come è possibile ci aiuterà a risolvere questo grande dilemma la nostra lavagna tattica le nostre clip i nostri grafici scopriamo ovviamente attraverso un'analisi scottante oggi è scottante piccole premesse prima di iniziare una roma in nettissima difficoltà sicuramente ne parleremo ma senza dimenticare i complimenti che vanno fatti alla fiorentina senza dimenticare il fatto che qui nessuno vuole mancare di rispetto e si vuole sostituire ai professionisti che comunque lavorano alla roma ma come sempre il campo ha parlato e noi siamo qui per analizzare quello che è stato un verdetto secondo me disastroso una roma che perde 5 1 contro una fiorentina sicuramente buona ma che ha messo in evidenza dei problemi delle problematiche ragazzi secondo me non da poco e io come dicevo in apertura mi domando come è possibile ne parleremo immediatamente ma prima di iniziare volevo ricordarvi che se volete lavorare nel mondo del calcio e diventare osservatori match analyst e o data analyst abbiamo oltre ai nostri corsi completamente online offerte di lavoro attualmente in corso presso club di serie b e serie c ci si può ancora prenotare abbiamo qualche posto ancora libero sia per il prossimo mese che per il mese ancora successivo formazione accesso ad offerte di lavoro accesso a programmi professionali lo sapete già se vi va potete anche solo mandare una mail attraverso il link che trovate qui in basso in descrizione chiedere come funziona il tutto vi aspettiamo ma parliamo di questa roma una roma che ragazzi dire da mani nei capelli secondo me è riduttivo perché ok ci sta perdere contro la fiorentina ma come questa roma sta perdendo come questa roma sta facendo male nell'ultima partita ma anche in quelle precedenti in molti diranno è la società e la dirigenza ma io ho visto robe in campo che tra allenatore e calciatori ragazzi devo dirvi che secondo me le colpe si sprecano ma iniziamo con l'analisi come sempre attraverso questo grafico riguardante i tiri delle due squadre innanzitutto roma che tira meno rispetto all'avversario rispetto alla fiorentina ripeto robe che ci stanno a livello statistico ma quando di questi 15 tiri contro i 21 della fiorentina noti che 8 quindi più della metà provengono da zone scomode in questo caso al di fuori dell'area di rigore già il primo campanello d'allarme suona perché se vuoi far male se vuoi segnare la ricerca di tiri comodi è una priorità e questa roma non riesce a costruire tiri pericolosi tira troppo da fuori area ovviamente con scarsa pericolosità guardate il confronto del posizionamento dei tiri rispetto a quelli effettuati dalla fiorentina solo 4 provenienti dall'esterno dell'area di rigore i restanti 15 ovviamente da posizioni più comode e questo grafico ragazzi secondo me è molto esplicativo di quella che è una situazione tattica della roma in fase di possesso preoccupante una roma che non ha idee arriva al tiro con troppa difficoltà io quando arrivò juric alla roma ho detto secondo me alla mentalità alle basi tecnico tattiche per poter costruire qualcosa di buono ma mi sta smentendo alla grandissima ripeto massimo rispetto ma il campo sta parlando io de rossi lo apprezzavo quando una squadra in difficoltà il cambio ci sta per una questione mentale psicologica juric delle basi a suo favore le ha sicuramente ma il risultato del campo è quantomeno preoccupante poche idee una roma che si schiaccia troppo in avanti per provare a far male una roma che viceversa quando non ha la palla ragazzi la vedo senza fame giocatori che non mettono la gamba questi due difensori lì indietro lasciati troppo spesso da soli ma che a loro volta fanno poco per difendere in maniera concreta quindi una squadra che fa fatica a difendere fa fatica a coprire le transizioni negative quindi le situazioni durante le quali subisce un contropiede ragazzi se tiriamo una linea finale la somma è pari a zero perché di positivo cosa possiamo raccogliere se non gli sprazzi individuali di un dibala lasciato troppo spesso in balia degli eventi un risultato che andiamo ad approfondire attraverso la nostra lavagna tattica innanzitutto come è possibile quindi tornando al concetto di fase di non possesso avere presentare una squadra che lascia l'avversario libero di poter attaccare gestendo la zona tra le linee di difesa e centrocampo con questa libertà qui c'è un doppio scambio tra i giocatori della fiorentina appunto con massima libertà tra le linee una zona tatticamente sanguinosa chi si occupa di questo prova sempre a comandare la zona tra le linee e la roma lascia l'avversario fare quello che preferisce proprio in una zona nevralgica qui scambio in zona tre quarti prima in orizzontale poi in verticale per il passaggio di ritorno a moise ken che va a costruire un gol con estrema comodità ma voglio anche essere buono ci sta magari in una situazione di transizione concedere una situazione del genere ma poi quando si va al contrasto come è possibile che i difensori della roma non riescono a contrastare quasi mai efficacemente l'attaccante in questo caso avversario qui c'è un moise ken che arriva di fronte alla porta della roma la difesa nell'uno contro uno puro è molto blanda qui non vedo uno spalla spalla non vedo una gamba che si allunga per provare a deviare il tiro non ci sta manco la scusa che il difensore arriva in ritardo perché lì se vuoi dar fastidio un difensore che ha fame va a dar fastidio quindi passiamo da concetti di tattica collettiva a concetti tecnici attitudinali per quanto riguarda in questo caso il singolo calciatore un discorso che si espande a quasi tutti i calciatori della roma ma andiamo oltre altra situazione qui di gioco avversario tra le linee stranamente non contrastato qui nuovo non riesco a spiegarmi come sia possibile concedere una situazione del genere è successo una volta può capitare ma di nuovo mostrarsi deboli e impreparati di fronte a situazioni del genere ragazzi di nuovo campanello d'allarme secondo me preoccupante qui ok concedi il passaggio ma non solo lasci l'avversario in questo caso dove inserirsi con una certa facilità bravissimo lui è per carità ma comunque nessuno è stato capace di fermarlo e impedirli di arrivare di fronte al portiere avversario e segnare qui di nuovo tattica collettiva da rivedere sicuramente ma uno contro uno atteggiamento di nuovo molto ma molto secondo me preoccupante ma fosse finita qui e invece no altro gol subito qui di nuovo solo due difensori a proteggere la porta lasciamo stare bove qui a sinistra liberissimo di fare quello che vuole dove celic ha lasciato appunto insomma la fascia destra della roma a dir poco scoperta in più di un'occasione ma qui c'è bove in possesso solo due difensori a proteggere la porta cosa fa che si inserisce in quello spazio che vediamo di nuovo libero di nuovo e sorprendentemente per quanto mi riguarda indisturbato mi inserisco lì arriverà la palla infatti è arrivata faccio gol nessuno mi dice niente o sai che c'è io provo a segnare ma andiamo ancora oltre parliamo di un altro gol subito qui effettuando un fallo e regalando un calcio di rigore in seguito ad una situazione un errore dal punto di vista tattico secondo me grossolano ragazzi io osservo squadre per lavoro osservo ragazzini e vedo ragazzini che hanno le idee chiare per quanto riguarda questo tipo di situazione cioè abbiamo la palla terzino destro in questo caso c'è una situazione di difficoltà innanzitutto palla verso l'esterno subito la zona di pericolo quella centrale ignorata la grande già dei ragazzini che osservo e ovviamente a volte a mali estremi estremi rimedi si chiudono gli occhi si spazza sta palla lontanissimo e via si prova a ricostruire la manovra successivamente qui un celic che concettualmente ignora tutto ciò va tra le grinfie della pressione avversaria perdendo la palla procurando un fallo da calcio di rigore qui ragazzi di nuovo concettualmente dal punto di vista tattico un allenatore che ancora non riesce ad imporre la propria idea di gioco e qui ragazzi parliamo di concetti basilari secondo me ed un calciatore che con leggerezza con sufficienza regala questo tipo di situazione all'avversario non so ragazzi lascio i commenti a voi perché anche qui io torno a chiedermi ma come è possibile concludiamo prima abbiamo parlato della fase di finalizzazione problematica meno tiri provenienti da situazioni non proprio favorevoli per andare a far gol qui la roma che segna ma segna perché il tiro è molto bene effettuato ma se la manovra si fosse sviluppata in verticale la situazione quale sarebbe stata vediamo la linea 3 dei giocatori offendenti della roma in questo caso molto schiacciata senza profondità praticamente già in balia della linea difensiva avversaria che controlla in questo caso la fiorentina con estrema facilità lo sviluppo della fase di finalizzazione qui ripeto se non ci fosse stato questo tiro ottimo da fuori area mi chiedo ma la roma come avrebbe potuto andare a far male all'avversario qui di nuovo problema tattico collettivo poche idee appunto per provare a finalizzare in maniera pericolosa quindi una squadra che quando attacca ha poche idee non sa cosa fare quando difende è approssimativa ma una squadra che non riesce a sopperire a queste mancanze con un certo tipo di atteggiamento che storicamente la roma anche bene o male sempre avuto io ho sempre visto la roma come una squadra affamata a volte inferiore dal punto di vista tecnico ma che ha sempre dato battaglia com'è possibile quindi che ad oggi sta venendo a mancare tutto ciò ragazzi io lascio a voi il verdetto finale secondo me un'analisi preoccupante per una squadra che comunque punta ad essere al vertice se non estremo vertice ma comunque nella parte alta della classifica c'è stato un cambio allenatore secondo me i giocatori sia alcuni mostrano delle lacune importanti ma non sono tutti così scarsi per proporre poi uno spettacolo del genere e vi dico che da appassionato da analista sono molto preoccupato per quello che può essere il futuro della stagione romanista ma come ben sapete questa è solo e soltanto la mia opinione vi aspetto qui in basso nei commenti per conoscere le vostre letture mi raccomando ci vediamo appunto per parlarne nel frattempo però mi raccomando fate i bravi ci rivedremo sicuramente ad un prossimo video ad una prossima analisi